Un pescatore di Castiglione del Lago è stato trovato morto in circostanze ancora da chiarire nelle acque del Trasimeno nella zona di Panicarolo. L'allarme è stato dato da alcuni pescatori che hanno appunto segnalato la presenza di un corpo proprio alla foce del fiume Anguillara. Nessuna attività è stata svolta dagli operatori del 118 della centrale di Perugia. La salma è stata trasferita proprio dai soci della cooperativa di Panicarolo a Castiglione del Lago e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le cause del decesso non sono ancora chiare ma non si esclude un malore. L'uomo era un pescatore di professione nato e residente a Castiglione del Lago.